Arrivato il nuovo montone e tutte le pecore in adorazione. Spiacerebbe eh Gabriele anche a te così? Certo, no, sono felicemente scusato. Ah, infatti. Qua è la mia capretta. Ok. Guarda, 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 guarda che convenevoli. Il problema è quando arriverà l'altro, l'altro maschietto. Vediamo se è contento di questa accoglienza. Aspetta, sarà un po' che... Dov'è? Ma come si è come il fiero? Eccolo lì. Ma come è il fiero? Eccolo lì.